E' l'unico nostro autore che pur non scrivendo niente di sospetto viene letto anche in occidente. Io lo metterei sotto controllo. Da domani potrete iniziare a mettere le microspie da Tryman. Stringimi, basta, ti prego. Perché lo fai? Perché sai che possono distruggerti. Non mi conosce, ma io conosco lei. Vorresti pubblicarlo? In Germania Ovest, con il tuo aiuto. In Germania Ovest, con il tuo aiuto.